Una volta acquisite, le mutazioni sono integrate nel patrimonio genetico e trasmesse alle generazioni di cellule figlie attraverso la divisione cellulare. Quando una mutazione appare nelle cellule che formano tessuti come la pelle, le ossa o il sangue, la malattia si svilupperà nella persona colpita. Questa malattia non sarà trasmessa ai discendenti. Si parla dunque di mutazioni somatiche. Se invece ad essere interessate dalla mutazione sono le cellule dell'apparato riproduttivo come gli ovuli o gli spermatozoi, si parla di mutazioni germinali. Le mutazioni germinali non hanno generalmente alcun effetto sulle persone colpite. Al contrario, quando la prole di questa persona eredita la mutazione, tutte le cellule del suo corpo ne sono affette. Gli effetti di questa mutazione saranno dunque visibili per la prima volta solo nella seconda generazione.